5 film che sono fighissimi perché hanno fatto la storia, ognuno per il proprio gruppo ma hanno fatto la storia oggi praticamente vi voglio andare a parlare di 5 film che sentiti così suonano un po' stupidi, un po' banali ma sono 5 film che in realtà sono fighissimi, alcuni sono film che sono all'interno della canzone, alcuni sono intro di una canzone e sono passaggi che però hanno caratterizzato tantissimo il pezzo, quindi oggi voglio andarvi a farveli scoprire perché come al solito quando scopriamo una certa cosa poi ci possiamo giocare su quella cosa, possiamo modificarla, possiamo renderla nostra e quindi magari da questi film potreste crearvi cose nuove vostre oppure no, li buttate via e vabbè prima di cominciare ovviamente iscrivetevi al canale, non starò qui a rubarvi troppo tempo tranquilli, continuiamo subito cliccate su cose e basta, non voglio fare un video che dura 60 anni, voglio fare un video abbastanza stringato non so quanto verrà perché sto registrando all'inizio, quindi spero che venga un video non troppo lungo ma comunque partiamo subito con il primo film L'avete riconosciuto? Questo qua è Can't Stop dei Red Chili Peppers suonato da Chad Smith Questo è il solito film, nel senso il solito film pop banalissimo ma che comunque primo ci sta sempre bene in qualsiasi contesto, in qualsiasi musica, in qualsiasi genere facciamo questo film, va sempre bene e nonostante la sua semplicità ha caratterizzato tantissimo la canzone tutti i ribatteristi si ricordano la canzone anche per questo film, tra virgolette, passatemi il termine, banale perché tutti quando la cantiamo, cantiamo questo per dire che quando c'è un film banale non buttiamolo subito via non diamolo subito per scontato che quel film non sia da fare perché è troppo banale pensiamoci un attimino prima secondo film in questione, ve lo faccio sentire subito musica 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 Questo qua, chissà se l'avete conosciuto, questo qua è un film che fa il batterista dei Green Day, nei Green Day appunto, all'inizio di un pezzo, il pezzo si chiama When I Come Around. E anche questo è un film molto semplice, in realtà molto stupido, ma ha qualcosa di figo. Nel senso, quando partiamo con la cassa, a parte il charleson iniziale, ma quando ci capita di partire con la cassa in un film? Praticamente mai. Quindi questo, più che essere un film stupido, è un film che deve darci una nuova idea, una nuova concezione di film. Proviamo a fare qualche film, non per forza questo, ma anche altri, in cui partiamo con la cassa. Verranno fuori delle cose sicuramente molto diverse da quelle che facciamo di solito. Perché non partire con la cassa? Questa è un'altra idea. Ma dopo questo film di When I Come Around dei Green Day, andiamo con il terzo film. Ve l'ho detto che avrei fatto in fretta, oggi ve l'ho detto. Non è detto che i batteristi l'abbiano beccato subito questo film, ma probabilmente i chitarristi, se c'è qualche chitarrista che sta guardando questo video, l'hanno beccato sicuramente subito. Questo è un brano di Jimi Hendrix e si chiama Little Wing. Dopo l'inizio del pezzo, sarà 30-40 secondi dall'inizio del pezzo che c'è tutto l'intro di chitarra, la batteria parte proprio con questo film. All'inizio questo film, se lo sentiamo, diciamo, che cavolo è? Cos'è sta roba? Tu papà, tu papà, tu papà, tu papà, tu papà, ce lo insegnano alla seconda lezione. Magari dopo qualche mesetto. Però comunque molto spesso anche questo può risultare stupido, può risultare banale. In realtà non lo è per niente, raga. Questa cosa delle terzine suonate su Tom, ho le bacchette in mano per questo, vedete, perché poi devo gesticolare, mi viene da suonare. Sul Tom con le ghost sullante, molto spesso è un po' snobbato. In realtà è una figata. Tu papà, tu papà, tu papà, tu papà, tu papà, pum, pum, pum. Cos'ha di male questo film? È fighissimo, è musicale, non è così difficile da fare. Ah, è bello, è tutto a singoli, quindi non abbiamo neanche il problema della diteggiatura. Studiate questo film e poi di qui, da questo film, ragazzi, sapete quante cose potete tirarci fuori? Tantissimissimissimissi, createvene di vostri sulla base di questo film. Ne tirate fuori una marea e super musicali. Mi ero un pochettino arrabbiato, scusate, ma adesso andiamo con il quarto film. Oh, finalmente un pezzo italiano. Dato che nei commenti tante volte mi dite, Luca, non parli mai dei pezzi italiani perché io in effetti ascolto meno musica italiana. Non sono uno che ascolta tantissimo la musica italiana. Mi piace ovviamente, la musica italiana è bella, però solitamente ascolto l'altra musica. Quindi, oggi ho deciso di portarvi anche un pezzo italiano in questi 5 top 5, vabbè, cose. Questo pezzo si chiama Mille giorni di te e di me ed è di Claudio Baglioni. Alla batteria c'è Steve Ferrone, ovviamente batterista super 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 pazzesco, che ha tirato fuori questo film, ma senza pensarci troppo. Nel senso, lui ha detto, io quando ho suonato questa canzone, boh, ho fatto il film che mi veniva in mente e poi è diventato un film pazzesco. Nel senso, un film super famoso, soprattutto tra i batteristi. Non è chissà che film sensazionale, non è un film così stupido, questo in effetti. Però non è un film che dici, boh, con l'aiuta ha fatto la super cosa. È un film abbastanza normale, ma come sempre la musica vince. Quindi, film musicale, film fatto bene, splash nel posto giusto, ghost e accenti giusti, belli, perfetti, da sentire, tutto a posto. Questo brano qui, raga, ascoltatelo tutto e provate anche a suonarlo perché è veramente fighissimo. A parte il film iniziale, il groove che ha, il portamento che ha questa canzone, è bellissimo. Comunque, lasciamo stare tutte le sviolinate, andiamo all'ultimo film che non vi aspettereste mai. Ve lo dico. Questo qua qualcuno l'ha riconosciuto? Pezzo di Michael Jackson che si chiama Rock With You, che ovviamente è famosissimo, nel senso sicuramente tutti voi l'avrete già sentito. Ma questo film che fa con la batteria, inizio pezzo, è stupidissimo, ma è fighissimo. Perché, in pratica, è come se andasse a suonare una cosa abbastanza normale, neanche troppo strana, con le mani, ma alcuni colpi le fa con la cassa. Quindi, qual è la figata? Non tanto la ritmica, perché se noi andassimo a fare tutto sul rullante la stessa ritmica, quindi sostituendo anche i colpi di cassa con il rullante, diventerebbe... Povero, non avrebbe nulla da dire questo film. Con queste casse, all'inizio, alla fine, qualcosa a metà, diventa tutta un'altra cosa. Quindi, come dicevo anche all'inizio sul pezzo dei Green Day, e tra l'altro vado a mettere insieme i Green Day con Michael Jackson, ma passatemi questa cosa, andate a mettere ogni tanto la cassa nei film, nei posti più disparati. Non pensate troppo a, ok, la cassa deve essere lì, il rullante deve essere lì, no, non ci sono due regole. L'unica regola della batteria è andare a tempo. Per il resto, fate tutto ciò che volete. Direi che posso anche finirla qua, spero che questi cinque film vi siano piaciuti, spero che oltre ad esservi piaciuti vi possano anche servire, possano ampliarvi il vostro vocabolario di film, e quindi io direi che con questo posso anche salutarvi. Prima di salutarvi, però, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di cliccare sulla campanellina. Se ancora non avete cliccato perché è importante, così almeno potete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio su YouTube, andate anche sul mio canale Telegram e noi prendiamo fiato prima e poi ci vediamo al prossimo video. Ciao!